Salve gente bentornati, in questo video vado a parlarvi delle foam proposte dalla Yankee Candle per tutto il mese di agosto quindi scontate del 25% nei tre formati di Jara, grande, media e piccola la prima è la Turquoise Sky e la seconda è la My Serenity che sono entrambe le due fresche la Turquoise Sky, questo cielo azzurro che io ammetto, adesso non so quanti di voi l'avete notato adesso nella piccola non si vede bene, praticamente c'è sto mare con una bottiglia con dentro una pergamena e non me ne ero mai accorta di questa cosa qua perché sono una persona sveglia la descrizione ufficiale dice una placida aria salmastra con sentori di aglio muschio che alleggia delicatamente sulle onde dell'oceano che povesia pronta per un'avventura sotto il brillante cielo blu le note sono note di testa, note acquatiche, fiori di lotto note di cuore, gelio bianco, fresia e erbetta di mare note di fondo, muschio e legni morbidi ciò che io sento e noto maggiormente in questa fragranza sono assolutissimamente note di testa, non le note fiorite ma acqua, erbette e legni, non soft ma legni perché comunque è una fragranza che fisica questa è stata una fragranza che a me non era piaciuta per niente poi avevo, mi avevano mandato in omaggio un, come si chiama, i car jar, quelli a cartoncino quindi un profumatore auto in cartoncino della turquosa ho detto, oh beh, proviamolo, male che vada, non mi piace ed invece mi era piaciuto un sacco in quel formato lì quindi voglio, conto di riprovarla e di capire anche se mi è piaciuta di più cioè nel senso, mi è piaciuta di più alle volte succede che nel tempo, col passare del tempo certe fragranze virano verso profumi che ci piacciono di più oppure virano verso profumi che ci piacciono di meno questo non è una regola però può succedere infatti mi sa che a me è successo con questa turquosa questo l'adoro, perché l'adoro è magnifico però la fragranza in sé non mi piaceva invece mi sta cominciando a sconquiferare un pochino l'altra fragranza invece che è proposta è la My Serenity la Turquosky c'è da una vita a catalogo questa invece è una fragranza relativamente giovane e nuova perché è stata inserita a catalogo tra il dicembre 2015 e il gennaio 2016 è uscita con la collezione primaverile omonima My Serenity la descrizione, ed è una fresca anche lei io la metto tra le coccoline questa la descrizione ufficiale è la quintessenza della pace pera e arancia si fondono con i fiori tropicali e il delicato muschio note di test tamandarino pera, ananas, colpen note di cuore ibiusco, plumera note di fondo muschio bianco allora io sono andata a confrontare queste note con le note di un'altra fragranza ovvero la Pink Sand perché secondo me si assomigliano a dismisura con una differenza plateale la Pink Sand mi fa venire male di testa questa no è comunque una fragranza che sta sulla base del fruttato fiorito, mescolato, ben amalgamato che non è ben definita come fragranza ecco, nella Turquo Sky i sentori sono meglio distinguibili invece in questa meglio distinguibili quei tre lì poi in questa invece è molto ma molto ma molto ma molto più mescolata la cosa quindi io vi lascio qui sopra un sondaggio se vi vai a farlo per dirmi se vi sono piaciute quale vi è piaciuta se non vi è piaciuta nemmeno una se l'avete provato ovviamente me lo scrivete nei commenti se il video in qualche modo può esservi stato utile mi raccomando pollicini in su e vi lascio nell'info box anche il che non l'ho ancora detto il sito dove io le ho acquistate ovvero www.casainshop.it e ci vediamo un altro video ciao